scuola scatta l'allarme persi 3.200 studenti i numeri degli ultimi anni degli ultimi dieci anni e bogana dice ripensare le politiche per la famiglia cari amici siamo di fronte al tema numero uno della nostra provincia perché la nostra provincia si spopola e si spopola perché c'è tanta gente che se ne va ma si spopola anche perché siamo il posto in italia dove si fanno meno figli chi resta non fa figli è il tema numero uno in questo modo perderemo servizi per esempio la scuola perché con questi numeri è ovvio che non è possibile immaginare che venga mantenuto il sistema scolastico come l'attuale perché questo significa perdita di classi perdita sicuramente di posti di lavoro allora cominciamo così con questa notizia non proprio bellissima la rassegna stampa di radio piave in blu di oggi che giovedì 10 giugno luigi guglielmi che vi conduce ancora una volta tra i titoli dei nostri giornali su questo andiamo subito a vedere perdonate lo cerco l'articolo di che affirma di alessia forzin è un approfondimento grande quello del corriere delle alpi su questo tema della scuola e dei numeri che negli ultimi dieci anni sono stati inesorabilmente in calo e adesso ci accorgiamo ci ritroviamo con questa con questa emorragia incredibile di studenti che poi il titolo di pagina 18 emorragia di studenti in nove anni la provincia ha perso 3.200 alunni il calo è drammatico negli asili perché perché negli asili arriva prima il problema demografico ma questo calo drammatico degli asili ce lo ritroveremo tra qualche anno alle elementari ce lo ritroveremo poi alle medie e le superiori e questo calo drammatico significherà chiusure questo dobbiamo saperlo fin da subito rispetto al 2012 soffrono anche belluno feltre la valbelluna numeri drammatici in comelico e questo vi ho già detto che cosa significa 100 bambini in meno alle gabelli di belluno vola quartier cadore l'altra pagina su questo grande approfondimento importante approfondimento di oggi del corriere delle alpi pagina 19 parte con il titolo dedicato alla consigliera provinciale serenella bogana che ha la competenza sulla scuola quello che una volta sarebbe stato l'assessore all'istruzione bogana ripensare subito le politiche per la famiglia la consigliera provinciale è molto preoccupata per il futuro delle scuole bisogna correre il tempo di chiacchierare di fare tavoli è scaduto ed ha assolutamente ragione la consigliera bogana gli iscritti alle superiori sono sotto quota 8.000 ma è ovvio l'abbiamo detto che se oggi sono sotto quota 8.000 gli iscritti alle superiori questo drammatico calo negli asili tra un attimo ci porterà a un grande crollo di studenti nelle superiori leggiamo qualcosa di questo di questo approfondimento in nove anni le scuole bellunesi hanno perso oltre 3.200 alunni un crollo verticale pesantissimo in montagna ma che non risparmia il capoluogo e feltre e nemmeno la popolosa valbelluna sono parole scritte da Alessia Forzin la collega autrice di questo di questo articolo e che in prospettiva un calo che in prospettiva pare drammatico negli asili bellunesi a settembre ci sarà un quarto dei bambini meno di quelli scritti nel 2012-2013 un quarto in meno un dato che si ripercuoterà nei prossimi anni sulle iscrizioni alle elementari alle medie e alle superiori cioè tra dieci anni questo un quarto in meno che oggi è negli asili sarà un quarto in meno alle superiori chiaramente gli unici istituti comprensivi che aumentano gli iscritti sono limana trichiana e pedavena tengono zoldo e l'istituto comprensivo di Fonzaso Lamonna hanno perso tanti alunni invece Longarone, Ponte nelle Alpi, L'Alpago, Santa Giustina per il Comelico non è esagerato parlare di emorragia di studenti dunque i numeri sono sono impietosi io vi consiglio veramente come faccio peraltro tutti i giorni di acquistare questo giornale il Corriere delle Alpi acquistate anche il gazzettino e ricordatevi di acquistare anche l'amico del popolo che proprio oggi arriva nelle case con il nuovo numero settimanale vi ricordo che l'abbonamento costa niente perché l'amico del popolo per un anno intero costa 55 euro e in più potete sfogliarlo anche sul digitale se vi è più comodo già il mercoledì e lo riceverete tutto l'anno ma insomma vi consiglio vivamente di acquistare il Corriere delle Alpi di oggi per rendervi conto direttamente di tutti questi numeri non possiamo leggere tutto ma è importante che prendiamo consapevolezza della gravità di questa situazione allora i dati sono forniti dalla consigliera provinciale di istruzione serenella bogana a settembre nel bellunese andranno a scuola 22.190 bambini e ragazzi 3239 in meno rispetto a nove anni fa il 13 per cento in meno negli asili salto solo ai numeri principali siamo a meno 25,27 per cento appunto il quarto in meno le elementari contano meno 1500 all'uni le medie meno 739 le superiori meno 166 vedete che poco le elementari meno 1500 le superiori meno 166 però questo meno 1500 delle elementari tra un attimo sarà un meno 1500 alle superiori rendiamoci conto allora io salto l'analisi dettagliata di questo articolo che si riferisce alla gordino alla val belluna longarone ponte zoldo al pago e poi si arriva alla parte del comeli con le scuole di auronzo lozzo lorenzago e vigo hanno perso in nove anni solo 86 bambini con le elementari di villa piccola lozzo che però hanno segnato numeri in crescita seppure di poche unità il cortina tiene sia un vito a 17 iscritti in più sono le dinamiche demografiche interne nella nostra provincia soffre calalzo meno 17 iscritti all'asilo pieve ha perso una sessantina di iscritti dice il l'articolo che va a scavalco sulle due pagine 18 e 19 in comelico vi leggo ancora questa cosa solo il crollo è violento dice alessia forzin le scuole hanno perso 246 alunni 9 anni fino al 2017 18 ci sono però anche i numeri di sappada 122 all'elementari con medico superiore è passato da 103 bambini a 58 e 85 perse nella scuola delle infanze mi dispiace oggi appunto partire con queste notizie non proprio incoraggianti insomma ma è inutile che ci nascondiamo dietro un dito sappiamo bene che questo è un tema importantissimo per la nostra provincia per il futuro della nostra provincia più ancora che per il presente della nostra provincia e dobbiamo senz'altro fare i conti imparare a reagire perché come dice proprio la consigliera provinciale bogana non c'è più tempo allora adesso passo a una pagina alla pagina 6 del gazzettino nazionale poi passeremo al locale però sul gazzettino nazionale c'è questo dato che mi sembra interessante comunque anche per noi ci serve sapere cosa succede intorno a noi la sfida delle infrastrutture la pedemontana appena inaugurata sapete e non è ancora pronta del tutto perché ricordiamo che manca ancora quel pezzo di circonvalazione nord e ovest che agirerà a vicenza bene in questo i primi numeri danno ragione a chi l'ha voluta i transiti sfiorano quota 18.000 ora diventi autostrada è la richiesta i flussi di traffico registrano l'impennata dopo l'apertura del monte belluna bassano l'ultimo tratto aperto rilevati fino a 5.000 mezzi in più al giorno limiti di velocità la regione chiede i 130 cioè che si possa arrivare alla velocità delle autostrade bene ricordiamo che questa autostrada adesso praticamente va da monte belluna cioè scendendo dritti dalla feltrina si arriva direttamente a monte belluna si può entrare in questa grande superstrada criticatissima costata un sacco di soldi la cui costruzione è andata avanti tantissimo probabilmente c'è anche ci sono state anche pagine non proprio belle su questa realizzazione però adesso c'è c'è quasi tutta manca il raccordo a est con la 27 con l'autostrada che determinerà sicuramente un altro incremento perché adesso per noi bellunesi raggiungere monte belluna sulle strade normali non è proprio la cosa più agevole del mondo quando ci sarà il collegamento anche attraverso la possibilità di prendere l'autostrada invece che scendere fino a venezia praticamente tagliare subito per chi deve andare a ovest in in direzione di vicenza e poi scavalcare direttamente vicenza ritrovarsi nella trafficata a 4 solo dopo vicenza capite che i vantaggi saranno enormi allora da quando la pedemontana ha unito le province di vicenza e treviso i flussi di traffico si sono impennati dice l'articolo siamo sul gazzettino parte nazionale considerando gli ultimi 40 giorni il picco di transiti era stato registrato il 21 maggio con 12.519 veicoli ma dall'inaugurazione del tratto monte belluna bassano ovest si contano quotidianamente fino a 5.000 mezzi in più con il record di 17.937 rilevato il 4 giugno ora che l'economia può ripartire dopo l'emergenza covid sono numeri incoraggianti per la sostenibilità finanziaria dell'infrastruttura che pure resterà a pedaggio visto che la regione ha deciso di avviare la procedura di riclassificazione da superstrada ad autostrada il che comporterà tra l'altro l'aumento del limite di velocità da 110 a 130 chilometri orari le cifre contabilizzate il mese scorso andavano dai 5.634 transiti del primo maggio agli 11.000 erotti del 27 maggio poi dal 28 maggio data di inizio del collegamento tra tra trevisano vicentino teniamo conto che non è neanche ancora così nota come opportunità con la percorribilità di circa due terzi dell'arteria c'è stato il netto aumento praticamente da 11.000 e pochi a 17.000 e pochi effetto novità per quel giorno è possibile ma nei successivi la tendenza è stata confermata tanto che l'8 giugno sono transitati 16.917.000 mezzi il dato non è ancora direttamente rapportabile alle stime di traffico effettuate nel 2017 spiega Elisabetta Pellegrini direttore regionale dell'infrastruttura e capo della struttura di progetto della SPV la strada pedemontana veneta per mancanza di un sufficiente periodo di rilevamento per l'assenza del calcolo sulle percorrenze medie delle varie stazioni stradali poiché la pedemontana al momento è realizzata solo per due terzi ma soprattutto per la mancanza di connessioni come dicevamo prima con la 4 e la 27 che rappresentano le due vere porte d'ingresso a rilevanti flussi di traffico della nuova infrastruttura insomma soddisfazione l'assessore Elisa De Berti vice presidente della regione è il titoletto dice arteria pensata come superstrada ma la finanza di progetto impone il pedaggio cioè tocca farla pagare perché perché è costata tantissimo e i soldi vanno le spese vanno coperte ecco questo volevo mostrarvi appunto questo questo titolo perché è ovvio molti bellunesi già hanno cominciato a usarla questa strada e rappresenta sicuramente anche per noi un'opportunità in più di collegamento verso il veneto centrale ma anche verso l'ovest verso milano per dire che alla quale superstrada alla quale arteria di collegamento alla quale sarà bene come hanno già chiesto anche gli industriali Confindustria Belluno Dolomiti sarà bene che il collegamento sia anche migliorato tra nord e sud la nostra provincia venga collegata meglio a questa infrastruttura ovviamente attraverso il feltrino dunque frana di perarolo ieri abbiamo messo anche sull'amico del popolo avete visto le comunicazioni che ci sono arrivate dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin che ci ha mandato le fotografie del crollo spontaneo che è avvenuto ieri adesso qui la fotografia amici anche della radio rischia perfino di ingannare perché vedete la frana questa si capisce bene ma la foto del gazzettino non è nitidissima e c'è questa parte pianeggiante in basso che può sembrare una strada no questo è il boite questo è il torrente boite la frana è caduta nel boite allora però però subito la regione si è data da fare per rimuovere i detriti è visto comunque come un alleggerimento importante e utile le previsioni però di intervento per risolvere il problema restano quelle già preventivate cioè una tonnellata di esplosivo per la frana di perarolo come dice il titolo chiamato mister dinamite ieri di stacco di 5.000 metri cubi la storica frana dell'abuso del cristo che spesso ha lasciato intere famiglie fuori casa sarà curata virgolette giuditta bolzonello che firma ciao giuditta con una tonnellata di esplosivo a posizionare la carica sarà danilo coppe detto mister dinamite l'uomo che ha fatto collassare il ponte morandi di genova sarà un intervento sul modello di quello attuato per la frana di schiucazzi in alpago ieri intanto circa 5.000 metri cubi di materiale si sono spontaneamente staccati dal versante franoso evidenziandone l'instabilità provocata anche dal perdurare delle piogge il fatto che sia sceso del materiale spontaneamente conferma che la frana non è ancora sufficientemente stabile per far intervenire senza rischio gli operatori ha spiegato l'assessore regionale Bottacin non appena le condizioni si saranno assestate dando garanzie di sicurezza per gli operatori in 48 ore l'operazione sarà portata a termine l'approfondimento è a pagina 13 fa un po' specie, a volte non ci si pensa questa frana di Perarolo, questo smottamento avviene a pochissimi chilometri a una manciata di chilometri dall'altro smottamento in atto quello sotto la chiesa di Valle di Cadore qui in questa zona dove c'è la frana passava l'antica viabilità romana la via romana, tuttora si chiama via romana da ospitale in su fino a Valle di Cadore che saliva fino a Valle di Cadore e passava sotto quella posizione dominante incredibile che è tuttora il colle su cui sorge la chiesa di San Martino a Valle di Cadore e purtroppo appunto in questi due siti il degrado, lo stato del terreno provoca appunto queste preoccupazioni, queste incertezze sul futuro Val di Zoldo, sempre comunicazione che arriva da ieri dalla regione con grande soddisfazione lavori finiti con 20 giorni di anticipo Bottacin, diamo certezze al turismo in questo modo terminati con 20 giorni di anticipo i lavori sulla strada provinciale 251 della Val di Zoldo, minata da una frana era rimasta prima chiusa per poi essere riaperta a senso unico l'assessore regionale Bottacin efficienza per dare garanzie alla stagione turistica allora anche qui si può approfondire poi l'articolo ma vediamo se abbiamo il tempo per farlo il titolone centrale oggi mi viene sempre ad aprire gli articoli il titolone centrale della pagina è questo vaccini, la mappa della provincia quasi 94.000 prime dosi e 49.000 immunizzazioni prima vallada, ultimo San Nicolò tutte le cifre comune per comune potete andare a vedere sul gazzettino siamo sul gazzettino Rocca Pietro e Marmolada alla funivia riparte tra otto giorni Borgo Valbelluna schianto grave il conducente di un'ape car scontro ieri verso mezzogiorno a Villa di Villa tra una Citroen Berlingo e un'ape car la peggio è stata del conducente del piccolo mezzo da lavoro Maurizio Tres classe 57 letteralmente catapultato fuori dalla cabina dell'ape il leso invece l'altro conducente Tres è stato portato all'ospedale di Treviso dove è ricoverato in terapia intensiva la prognosi è riservata gravi i traumi riportati nell'urto le cause sono al vaglio dei carabinieri per capire le responsabilità dell'accaduto non possiamo che fare gli auguri a questa persona che è rimasta vittima dell'incidente e anche stringerci alla famiglia che sarà preoccupatissima in questi momenti la foto centrale è Colle Santa Lucia si vede la chiesa bellissima che compare in tutte le foto ma inquadrata dall'alto dalla frazione di Cana 6 piccola frazione di Cana 6 dove purtroppo c'è stata la devastazione dell'incendio dell'altro giorno incendio la giunta a zera le tasse Colle Santa Lucia un conto corrente per aiutare Cana 6 questo il titolo Treno delle Dolomiti il 17 incontro Regione Sindaci allora l'articolo nel taglio basso annuncia appunto questo prossimo incontro Treno delle Dolomiti è tempo di decidere la Regione non si sbottona ma si apprende che ha fissato un tavolo tecnico il 17 giugno a Belluno con i sindaci interessati tutto lascia pensare che entro giugno arriverà la decisione sul tracciato scelto faremo un incontro a Belluno spiegava ieri l'assessore regionale di trasporti Elisa De Berti con l'ingegnere Helmut Moroder e tutti i sindaci interessati tra oggi e domani partiranno le convocazioni e il PD spinge si decida e si metta a fine alla lotta tutta bellunese tra i tracciati lungo il Boite e lungo il Cordevole bisognerà che anche la politica sappia fare la sua parte e aiuti a decidere c'è poco a fare i piani per l'estate elettrificazione chiusa chiusura fino a settembre bus per Tre Cime Nevegale Val di Zoldo allora questo valetto bus dalla stazione al Nevegal per scendere dal colle bus da Calalzo alle Tre Cime o ancora da Ponte in Val di Zoldo Trenitalia guarda il turismo in quota si parte da domenica a 13 giugno in coincidenza anche con i lavori di elettrificazione fino all'11 settembre da Ponte nelle Alpi a Calalzo si salirà in autobus veloci andiamo a vedere qualche altro titolo poi torniamo sulla prima del Corriere delle Alpi treno delle Dolomiti incontrerò i sindaci questo il titolone che annuncia appunto l'approfondimento di Giuditta Bolzonello sulla possibilità che la regione si esprima presto a questo punto tra poco sul come si dice sul tracciato insomma che dovrà seguire questo treno per collegare Calalzo a Cortina andiamo andiamo avanti a Calalzo solo in bus tratta chiusa per i lavori di elettrificazione di estate di disagi annuncia il giornale Vallada da medaglia d'oro come elico fanalino di coda stiamo parlando della mappa delle vaccinazioni Feltre riaprono le antiche prigioni l'avete visto già ieri sull'Amico del Popolo www.amicodelpopolo.it inserto corposo sui motori poi la strada in zoldo bonifica in tempi record Canazzei il comune zera le tasse tremenda fotografia dell'incendio Busa del Cristo arriva mister dinamite e poi lo sport scusate la velocità di questa carrellata che vi ho propinato allora tornando al Corriere delle Alpi dicevo volevo tornare alla prima pagina di questo giornale vediamo se riesco a farlo velocemente eccoci qui scuola scatta l'allarme abbiamo detto frana Busa del Cristo crolla parte del materiale abbiamo detto c'è la foto dell'incidente in prima pagina nell'incidente con l'ape car rovesciata e purtroppo insomma qui è successo quello che è successo abbiamo detto con le gravi condizioni del 64enne che è stato sbalzato fuori da questo piccolo e insicuro mezzo di fatto se avviene un incidente concerti estivi in Cittadella c'è Francesca Michelin la passerella sul Tegnas va demolita è pericolante parliamo di Taibona Gordino è stata chiusa per precauzione adesso il sindaco di Taibon cerca fondi per rifarla proteste a Santa Giustina rotatoria con lo stop fioccano le multe a chi non si ferma una rotatoria con lo stop un paio di controlli della polizia locale di Santa Giustina e c'è scappata una ventina di multe sanzioni amministrative da 129 a 178 euro e 6 punti spariti dalla patente ma in quell'imbocco non basta dare la precedenza bisogna proprio fermarsi non è dare la precedenza ma stop e questo crea qualche problema anche perché siamo abituati a dare la precedenza nelle rotonde non allo stop e questi sono giochetti che non fanno bene di sicuro economia bellunese PIL più 5% Confindustria ora ci crede e assumiamo Loren Berton crede nella ripartenza lo sblocco dei licenziamenti in tanti vogliono assumere quindi forse non c'è troppo timore per il momento in cui sarà di nuovo possibile licenziare sapete che i licenziamenti sono stati bloccati per far fronte ai problemi economici della pandemia sagre a rischio le regole sono poco chiare e i costi elevati le proloco tendono di capire c'è la foto centrale di un getto d'acqua verso l'alto in piena montagna il titolo è questo l'abdomante e perforatrice trovata l'acqua a casera aeree l'abdomante perforatrice così Matteo Paniz ha trovato una vena di acqua per garantire l'autosufficienza idrica al rifugio casera aeree di San Gregorio ci sono voluti due giorni per far arrivare la macchina fino in quota ma un alto getto d'acqua ha poi salutato la riuscita dell'operazione noi con questo ci fermiamo qui io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione vi auguro una buona giornata aspetto i vostri saluti come al solito tra i commenti a questa rassegna stampa così vediamo che ci siamo ci salutiamo ci ritroviamo se poi qualcuno di voi vuole condividere a noi fa solo piacere perché attraverso le condivisioni ci aiutate a far conoscere questa rassegna che si conclude con il solito appello questi nostri giornali che vi presentiamo Gazzettino Corriere delle Alpi L'Amico del Popolo da cui vi parliamo comprateli perché solo comprandoli ci aiutate a fare il nostro lavoro a fare il nostro servizio a darvi queste notizie ciao a tutti buona giornata grazie